Canta Warcourt Volevo aggiungere che da quanto Marco non è in turco noi il camerino è sempre pieno di birra perché con noi finisci questo vuol dire che sono dei due buon si cammino va bene non cato avete fatto piangere perché ho quattro mesi che non suono sono a casa a farmi seghe No, aspetta, non faccio due pezzi nuovi, per una siga e l'altra non faccio due pezzi. Tagliamo perché vogliamo fare il concerto e vogliamo bere giustamente. Bella, ciao ragazzi. Adesso capite anche perché di solito non parla, in finito i concerti saranno dal tipo di quanto non vuole. Quindi che dire, veramente vi ringraziamo dal profondo del nostro cuore per essere venuti questa sera, tanto che non sono neanche a Pilano ed è stupendo vedere Laika pieno e così pieno di magia, soprattutto a casa propria. Grazie mille. Chiariamo di rivedervi tutti la prossima volta con anche Marco che non parallelava se non era al basso e fino alla prossima volta vi lasciamo con la nostra verità, our truth.